Ora, voilà, Tiziano è nebera e benvenuto a tutti a scettare. Porta, scusa Tiziano, porta fortuna, giocare la pancina. Allora, passiamo a una cosa, visto che bisognerà a ballare, noi speriamo il più tempo possibile, ma ormai il tempo stringe, potresti che siano le ultime esibizioni fino a quando non verrà il dietro evento. Allora, io dicevo, gli facciamo fare un ballo, un ballo, visto che appunto Deborah è qui di Casole, gli facciamo fare un ballo spettacolare, un ballo di quelli tosti, una polca, la facciamo una polca Tiziano? Quello dite? Allora, che sia un bel augurio per tutta quanta la loro famiglia. Tiziano in Deborah, qui a Casole, è una bellissima polca! Ci streggiamo qua verso il palco, noi. Siamo tutti con Tiziano in Deborah! E le vostre mani sono indispensabili per Tiziano in Deborah! Allora! Allora, si parte! E' iniziata anche a Alex, il primo genito! E' iniziata anche a Alex! Vai dentro la tenitura! Si siamo! Allora! 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 E' nella poca! Tiziano in Deborah per il pubblico di Casole! E' iniziata anche a Alex! Vai! Bravissi! Ficci a l'Evora! Vai! 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 E vi vogliamo sentire tutti i passi di festa, bellissima volta, di uniziale migliore per voi! Tutti insieme e andiamo a parte! Bravissimi! Bravi, bravi, bravi! Pensate che un bambino come parla dentro la pancia, eh! E' un malerino nato, come si dice! No, io mi sto chiedendo invece cosa dice lì dentro, chi si vede spavoltato da una parte all'altra! Mamma mia! Tiziano e Evora! Massimo, i genitori dei ragazzi! Adesso, adesso arrivavo! Ah, ma io faccio il presentatore, però, eh! E' un malerino nato!